Grazie a tutti Questa Easter Bonnet Dalla tradizione americana I cappellini di Pasqua E sfilate Delle scuole medie Ed elementari Bellissimi, decorativi E originali Questi cappellini Non essere a E seri a cadavere Pai lo scritto Ci sei a quella non so il carabello no, no ehi, non vediamo una pochetta sappi che c'è nel panino sappi che c'è nel panino che c'è nel panino sono le 10 è la prima volta che si fa questa manifestazione bellissimi questi bambini i cappellini molto originali l'azione americana che abbiamo portato anche bello tasso, bonnet, pareti ecco di qua ecco 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie, bellissimo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti